Siamo con mister Baldini alla vigilia della sfida al Forgia e allora mister è una Catania che nel morale sta bene dopo il successo a spese della Libonese però deve fare i conti con parecchie indisponibilità. Sì stiamo bene stiamo bene perché abbiamo vinto una partita di sofferenza e sapevamo il tipo di partita che avremmo affrontato contro la Libonese e i ragazzi hanno risposto ancora una volta presente quindi mentalmente stiamo bene. Manca un po' di persone e parliamo di Moro che è in nazionale, Russotto, Zanchi e Clayton che sono squalificati, Piccolo, Pinto, Greco e Frisena che sono infortunati quindi ci manca un bel po' di ragazzi ma sono convinto anzi straconvinto che i ragazzi domani quelli abili faranno prestazione anche domani non mi spaventano queste assenze assolutamente ho fiducia in tutta la Rosa e quindi sono fiducioso per la prestazione che la squadra farà domani. E poi c'è un giocatore in più il pubblico del Massimino? Assolutamente sì assolutamente sì giochiamo in casa ormai abbiamo instaurato un legame importante con i nostri tifosi non abbiamo nessuna voglia di rallentare sotto il punto di vista dell'impegno della concentrazione e della cattiveria agonistica ormai questa squadra ce l'ha nel DNA il nostro pubblico ci dà una grossa spinta questo legame ci dà una grossa spinta ripeto quello che ho detto la scorsa settimana il legame che si è restaurato è quello che ci ha fatto andare avanti in questo periodo e abbiamo voglia di coltivare ancora di più questa cosa. Giovanni Finocchiaro per la Sicilia e la gazzetta dello sport Ropolo Albertini dall'inizio sulla sinistra il secondo ha più gamba? Albertini ha più gamba sicuramente in fase di spinta Ropolo è un po' più difensore non ho nessuna intenzione di dare dei vantaggi all'avversario quindi me lo tengo per me. Maldonado è pronto a rientrare per guidare le due fasi di gioco? Maldonado è pronto per il rientro l'ho fatto riposare apposta per averlo fresco questa partita e quindi sì è a completa disposizione. Capitolo Zeman Giovanni Finocchiaro le chiede se ha aneddoti o un pensiero sul tecnico boemo e sul suo modo di concepire il calcio e Damiano Tucci per la casa di C e chiede che effetto le faccia ritrovare Zeman da avversario dopo la sua esperienza da calciatore sotto la guida dell'allenatore del Foggia un'esperienza durante la quale è stato proprio lei uno degli atleti più utilizzati. Sì quell'anno lì facevo il capitano il rammarico più grosso è stato il suo esonero perché perché secondo me era immeritato il suo esonero a Napoli nasce dopo una partita che avevamo pareggiato a Perugia stavamo vincendo fino quasi stavamo vincendo e poi si è stato questo pareggio e alla fine di questa partita lui è stato esonerato. Zeman è sicuramente un allenatore che non si può tenere cinque partite è un allenatore che ha bisogno e aveva bisogno di tempo di lavorare quindi in quell'esonero si è stato tanto rammarico. È un maestro perché non nego che tante cose che ho imparato vengono dalla sua idea. Ho sempre pensato che fosse molto avanti nei tempi quello che poi è stato il rivedere un po' le sue cose in maniera molto netta però la mentalità di Guardiola e quindi pressing alto appena perdo la palla un certo tipo di lavoro in possesso palla lui insomma ci ragionava 30 anni fa quindi sicuramente è stato un grande maestro il rammarico è averlo avuto per poco tempo. Sul piano personale ci sono degli aneddoti? Ma era uno che nonostante sembri o sembrasse molto burbero era una persona simpaticissima era una persona che rideva spesso. Gli aneddoti sono sul punto di vista lavorativo io non ho mai sofferto un ritiro come con Zema mi ricordo venivo dalla rottura di un crociato e mi ricordo i dieci volte mille mi ricordo i gradoni mi ricordo una giornata che tra virgolette per punizione si fece fare un movimento un'ora e mezzo in campo sempre quello sempre fermo lì un giorno non era contento dell'allenamento prese un pallone ci si ci 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 si mise sopra e non e non parlò per un'ora noi noi siamo stati fermi in campo un'ora intera a capire cosa avesse lui senza fare assolutamente niente lui era lì che non diceva niente noi fermi in campo lì un'ora e non sapevamo se dover andare via se continuare a far qualcosa o finché poi dopo riprese l'allenamento e ci spiegò perché aveva avuto quell'atteggiamento ma è uno che pretende sempre il cento per cento quindi di aneddoti da raccontare ne avrei tantissimi è un personaggio che ammiro. Torniamo all'attualità della Catania Salvatore Emanuele per calciocatania.com quali sono i tempi di recupero di pinto e di piccolo quando potrebbero rientrare in gruppo? li ho sentiti ieri e si stanno curando e penso che tra una decina di giorni possano essere a disposizione della squadra se la fisioterapia e se le cure continuano a andare come stanno andando piccolo ha fatto un interventino al ginocchio e quindi dobbiamo essere ben concentrati prima di rimetterlo dentro però il lavoro sta procedendo per tutte e due li ho sentiti tutte e due e penso che tra una decina di giorni potrebbero essere a disposizione. Kevin Biondi potrebbe essere utilizzato come mezzala? Assolutamente sì assolutamente sì vi ho già detto tante volte che non ragiono non ragiono solamente sugli undici non si può più ragionare solamente sui primi undici che scendono in campo ma su 16 giocatori per partita perché i cambi diventano fondamentali e non faccio distinzioni tra chi gioca i primi 45 minuti o chi gioca i secondi 45 minuti secondo me per me sono tutti titolari e quindi Kevin ha un ruolo importante perché è un jolly lo posso schierare come mezzala lo posso schierare come esterno d'attacco e quindi lo tengo in considerazione. Anna Pia Panassili per Sicra Press è più grande la soddisfazione di vedere Moro far bene anche in nazionale o il rammarico di non poterlo avere per una sfida così importante come quella di domani? No è assolutamente più grande la soddisfazione di vederlo giocare in nazionale ma non solamente per i suoi meriti che ne ha tanti ma per i meriti che ha la squadra. Il Moro in nazionale ha una valenza importante per tutti i ragazzi perché ho sempre detto che Moro sfrutta alla perfezione il lavoro di questi ragazzi della squadra e quindi è una soddisfazione per tutti. Damiano Tucci per la casa dici spesso ci si sofferma su chi fa gol ma quanto è importante avere a disposizione per lei un calciatore come Rosaia che ha realizzato a campo basso il suo gollo con la maglia del Catania quanto incide nella squadra la sua presenza? Rosaia penso che sia uno dei giocatori che è cresciuto di più dall'anno scorso è cresciuto veramente tanto è cresciuto sotto tanti punti di vista sulla sua consapevolezza di essere un buon giocatore è cresciuto tecnicamente è un giocatore importante ma come lo sono tutti è un giocatore in questo momento pensando anche all'anno scorso dove magari poteva essere l'alternativa lui si è guadagnato questo posto da titolare quindi in questo momento è un giocatore importante per dinamismo per corsa per tecnica poi a me piacciono le mezzale che ogni tanto fanno gol quindi lui sta lavorando molto sugli inserimenti e sono sono contento per questo ragazzo perché come tutti gli altri è però è veramente un professionista di alto livello una domanda che giunge da foggia maria assunta scelsi per mitico channel il catania sta facendo bene nonostante i problemi societari come è riuscito ad isolarsi imprimere la giusta tranquillità ai suoi e se se la sente di dare qualche consiglio in questo senso a zeman con riferimento all'impatto del meno 4 recentemente inflitto alla società pugliese io di dare consigli a un allenatore che ha fatto la millesima panchina la scorsa partita faccio un po' fatica posso dire quello che è stato il nostro lavoro e il nostro lavoro è stato semplicemente quello di ora sembra una banalità ma non è proprio non è una banalità è stato quello di far rotolare sempre il pallone in mezzo al campo ognuno di noi nasce io sono stato calciatore ora alleno ma ognuno di noi fa la nostra professione in primis e cioè quando iniziamo piccolissimi non con lo scopo di guadagnare dei soldi ma per il gusto di giocare a calcio io ho giocato sempre per il mi sono espresso sempre per il gusto di giocare a calcio e quando una squadra dei valori sani come la può avere la nostra squadra a degli uomini che sono amanti del proprio mestiere come rotola il pallone in mezzo al campo pensano solamente a quello quindi il lavoro è stato semplice anche nei momenti più difficili nei momenti in cui non si parlava d'altro che di problemi societari a me è bastato fare sempre rotolare il pallone in mezzo al campo per vedere l'entusiasmo del bimbo che inizia a giocare a pallone questo questi ragazzi hanno l'entusiasmo dei bimbi quando iniziano a giocare a pallone poi dopo ci sono anche ognuno ha i propri interessi e è giusto che vengano coltivati però quando ruotola quel pallone il ca nel campo a tutti noi componenti di questa squadra ci brilla gli occhi e quindi è stato molto semplice isolare la squadra sotto questo punto di vista a proposito di chi è nel percorso iniziale della carriera convocati per la prima volta in prima squadra tropea e panarello ce li presenta li presenta ai tifosi rossazzurri ma tropea è un ragazzo che ha che ha molta gamba quando si dice molta gamba vuol dire che ha molta intensità molta velocità molta rapidità può fare l'esterno d'attacco può fare il terzino è un giocatore che può giocare a tutta fascia un giocatore che secondo me ha margini di crescita importanti panarello è un centrale difensivo che sta facendo benissimo in in primavera e quindi è il giusto è il giusto riconoscimento per quello che sta facendo in primavera sono molto contenti di averli convocati